Lo che vedete alle mie spalle è il sito dove sorgerà il museo delle periferie, il RIF. Siamo a Torbella Monaca, nel municipio Sesto, in via dell'archeologia. Quando sorgerà questo sarà il primo museo di Roma Capitale fuori del grande raccordo anulare. Non abbiamo voluto aspettare che terminassero i lavori, anche perché a dirla tutta devono ancora iniziare. Questo museo doveva vivere da subito, perché pensiamo abbia una missione, quello di contribuire ad allargare i confini della città di Roma, ben al di là del solco disegnato dall'aratro di Romolo, intorno ai Sette Colli. Per tre giorni, a partire da oggi, proveremo a mettere la periferia al centro. È come l'acronimo che abbiamo scelto per questo museo, il RIF, che è proprio il centro della parola periferia. Non è vero che le periferie sono grigie, sono brutte, sono tristi, sono violente. Le periferie sono tanto altro e proveremo a dirlo a gran voce in questi tre giorni. Buona visione a tutti, online e offline. Buona visione a tutti.